Hey love, buongiorno, buona sera, buona notte e benvenuti al nostro canale Io sono Allie, io sono Auri e sarei su Allie Auri Channel Con un nuovo video Diciamo che mentre studiavamo abbiamo fatto un bel po' di danni Perché ragazzi bisogna sollevarsi un po' l'animo E poi noi siamo multitasking, cioè possiamo fare 100.000 cose contemporaneamente Quindi abbiamo raccattato un po' di cosine che ci sono arrivate E un po' di cosine che abbiamo acquistato nell'ultimo periodo E ora ve le mostreremo Vi ricordiamo di seguirci anche su Instagram e TikTok Allie Auri.channel E di vedere in descrizione perché di alcune cose vi lasceremo anche il nostro codice sconto Mi voglio di iniziare lì perché abbiamo tantissima roba, spazio per tutta la stanza Iniziamo da Spigen Spigen è un brand, un marchio che si trova su Amazon e che noi adoriamo Cioè soprattutto i loro cover, i loro gadget per il cellulare sono i migliori in assoluto Davvero, noi abbiamo già fatto un grande acquisto l'anno scorso Di cover e gli articoli per il mare E vi ho detto che fai che ne privi Let's do it again Quindi in realtà ci devono ancora arrivare le ultime cover Quindi ci sarà poi una parte vestita differenti dove ve le mostreremo In primis non potevamo non prendere diciamo le cover subacquee che sono indispensabili Waterproof, perfette per qualsiasi modello, anche per i nostri che sono i più grandi Perfette per fare i video sotto acqua, per fare dei contenuti spaziali sui social E poi la cosa particolare è che hanno qua una sorta di bombatura così che il telefono vada a fondo Ragazzi è fondamentale per noi che siamo iper sbadate E poi c'è anche il cordino qui da poter attaccare se volete mettervelo al collo Per evitare di perderlo in acqua o cose del genere Poi un altro articolo comodissimo soprattutto per chi fa escursioni in barca vela È questa sacca ragazzi capientissima Quanti 30 litri può contenere al suo interno Noi ce ne abbiamo anche di misure inferiori Ed è proprio una mega sacca da poter tenere in barca Ma da poter mettere anche in spiaggia per fare le escursioni Capientissima e ci potete mettere dentro la qualsiasi Per evitare che si bagni Ad esempio i telefoni, gli ipad, il computer se dovete anche tenere quello Qui c'è anche una tasca piccolina sempre waterproof con la cerniera E poi la chiusura è molto pratica e comoda Perché basta girarlo così e poi chiuderlo Ah ma ed è pure uno zaino Cioè capito potete anche metterlo come zaino E certo perché ipoteticamente se tu decidi di andare in spiaggia Tanto devi portare 7 miliardi e mezzo di cose Così invece di portatelo a mano perché 30 litri ragazzi Poi metteranno a pesare C'è pure la parte con le spalline imbottite Assurdo, bellissimo Comodissimo Una nuova borsa male per le escursioni Esatto Un po' più avventurose Dopodiché ci sono arrivati degli accessori perfetti per registrare Come ad esempio questo braccio selfie che si trasforma in un cavalletto Questo veramente lo volevamo da tipo tantissimo E allora abbiamo deciso di prenderlo in due colorazioni Sia nero Anche rosa Anche perché è comodo perché è magnetico Quindi anche se noi abbiamo il telefono che è gigante Quindi molto spesso quei cosittini che si devono allargare Non ci stanno Oppure si rompono Questo qui è magnetico con la cover anche con il mug safe Che noi abbiamo di spigen Praticissima E quindi si alza fino a 62 centimetri Particemente più alto di noi Per tutti i viaggi che dovremmo fare Dove dovremmo ovviamente registrare e vloggare Questo sarà il salva vita Importante sarà ricordarcelo Ali Esatto Anche perché c'è pure il telecomandino Perfetto per poter cliccare play Anche se avete il cavalletto opposto a distanza Ali Auri A tema sport Abbiamo deciso di prendere dei accessori Per andare a correre o comunque a fare degli sport Ah fare soprattutto magari passeggiatine Stiamo un po' più su easy peasy In primis questo borsello Praticissimo E water resistant Per poter mettere dentro le chiavi Il telefono Ma questo fa si cotizzano anche per fare le passeggiate al mare Poi invece è una cosa un po' più pratica Tipo stile corsa Abbiamo un borsellino da braccio Esatto Perfetto per metterci dentro il telefono E water resistant Quindi anche per il sudore ragazzi E anche magari un portafoglietto Un pacchetto di fazzoletti Se volete prendere il gelato Nel pit stop della corsa Certo perché prima si corre Poi si prende il gelato giustamente E invece questo qui è perfetto Per metterci il telefono Perché è pure touch E sempre water resistant Da poter mettere al braccio Quando si va a correre Se non volete mettere il borsello Perché magari Correndo Rimbalza E qui ci mettete solo il telefono Se è tutto necessario Ed è perfetto Auri insomma Dovremmo iniziare a darci da fare Fintà la passessione No vabbè ma secondo me Una bella passeggiatina Anche tutte queste cosine Le possiamo fare Ali E poi vi mostriamo anche Tutte le cover Ovviamente qui sotto in info box Vi lasciamo anche Il nostro codice sconto E il link per andare a vedere Tutto sulla pagina di Spigen Sempre per poi Rimanere a tema estate Ci sono arrivati Dei completi video C'anzo a parte No ragazzi Quest'estate Si sono veramente superati In primis I top che abbiamo addosso Raga bellissimi Anche perché hanno Tutta la parte Antiscivolo Perfetta E anche le coppe Quindi non potete anche Mettere senza reggiseno Sono comodissimissimi E questo era abbinato Ai suoi pantaloncini Fanno parte infatti Del Aurelia set E del colore abbinato Al top Ovviamente tutto nero Perché ragazzi Nel mio colore preferito Io rosa Ma poi hanno questo elastico in vita La taschina dietro Le taschine Poi sono freschissime Ti metterlo anche come maglietta Esatto E poi hanno dei colori pazzeschi Poi un altro colore Diciamo molto estivo Di solito Ti metto sempre il nero Ho preso un set Di questo colore rosa Guardate Come tu da Barbie È bellissimo Ecco se l'anno scorso Ce l'avessi avuto Se l'avessi messo al cinema E questa è la parte di sotto Che invece Una gondellina pantalone Ragazzi Vogliamo parlare Delle gonne pantaloni Comodissime Cioè hanno proprio I pantaloncini Fatti con anche la banda Antiscivolo Così che quando camminate I pantaloni rimangono Al loro posto Esatto E anche io infatti Ho preso la gonna Però di un'altra colorazione Ovvero verde Che è abbinata Sopra una maglietta Che però al momento È a lavare A maniche corte bianca Con tutta la schiena scoperta Ho preso anche uguale nera Che è comunque a lavare giù Non vedo l'ora di indossarla Ma non per andare a tennis Per andare ovunque Indossiamo i top di Oceans E tutti i loro set Per tantissime occasioni Poi questa maglietta Che ha anche l'auri In bianco Che è la maglietta Sydney Ragazzi Leggerissima È comodissima Super elasticizzata È un po' trasparente Però nel senso Con un top sotto Va benissimo Poi un'altra cosa Appunto abbinata In realtà Alla stessa maglietta Che però Io ho messo a lavare Perché l'ho indossato Questi pantaloncini Di questa colorazione Che sono gli stessi miei verdi Esatto Che sono i Maya Hot Pant Questi sono i migliori Nassunto Poi io Ho preso una tutina Ragazzi Non so neanche bene Perché Però secondo me È un po' Da mettere In varie occasioni Da pantaloncini corti Dietro tutta la schiena scoperta Bellissima Anche secondo me È molto bella Poi continuando sempre Per la serie Marina Set Questo vestito Ma no bello Di più Questo l'ho messo tantissimo Ultimamente Proprio anche per andare A fare le commissioni È proprio comodo Bello Fresco Poi hai i pantaloncini Ragazzi Sotto Bellissimo Questo veramente top Sarebbe per giocare a tennis Ma io non vado a giocare a tennis No Ricci interessa No Ah e poi abbinate Alla maglietta Che appunto era la Vale Questo è sempre Gonda pantalone Nera Io invece poi Ho anche questo top Ma sempre così Con tutte le costine È proprio comode L'ha sicilizzato Bellissimo E un altro troppo Invece questo qui Bianco Che fa parte sempre Della collezione Marina Così Con le spalline regolabili Quindi perfetto Forse da mettere sotto la maglietta È più indicato Sì forse di quello nero Allie Ma questa è una collezione Marina Cioè Tra l'altro è il nome anche Della nonna Marina Quindi troppo Esatto Poi ho preso come aveva preso Anche l'Auri Il set quello composto Da I pantaloni di Lino Che però ho utilizzato Sempre questa settimana E sopra la camicia Nera di Lino Che dietro è aperta Questa è perfetta Per andare a spiaggia Esatto bellissima Ditemi se non è la camicia Per la spiaggia E infine L'ultimo set È il Lola È composto da Un top azzurro Cioè per me Questo è il colore Di quest'anno La maglietta Che davanti è molto semplicemente Dietro è questa bellissima Fantasia floreale Poi i pantaloncini corti E infine la sua felpa Con davanti la scritta di Oceans E dietro Oceans 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 Molto comoda E molto leggera Perché questa proprio fa parte Della collezione stiva Quindi è più leggera Delle altre Però comunque fa bene Il caldo se la vedete Sì no infatti E quindi voto 10 Poi abbiamo avuto Un grandissimo rifornimento Di skin care Da parte del sito coreano Stylevana Sapete che noi siamo ossessionate Della skin care Soprattutto quella coreana È la migliore in assoluto Il nostro codice sconto Se può interessarvi È info10 al AU Iniziamo con Delle cose perfette Per l'estate Ovvero una SPF 50 È assolutamente Da mettere Ogni singolo giorno L'SPF In realtà sarebbe da mettere Anche in inverno Ma è stata in special modo Ragazzi noi ne abbiamo Estremamente bisogno Perché l'ultima volta Che siamo andate al mare Non l'abbiamo utilizzata E io ho ancora i segni Poi c'è un Buro cacao Sempre con la protezione solare Con anche la vitamina C10 Per riparare le labbra Noi siamo ossessionate Dai prodotti labbra Ma sono No È bellissimo Con il cuoricino Parlando della questione del sieri Questo si chiama Mixon Bean Essence Bellissimo Ma è bellissimo Ma raga Ma c'è i pack Sempre voto 10 Questo qui sarà sicuramente A base di olio Poi un altro siero Invece A parte il pack verde Così bello Questo forse dovrebbe essere Tra l'altro Per la pelle grasse Se non erro Centella asiatica La pianta utilizzata Soprattutto per pelle sensibili Cioè vogliamo parlare Reset the travel Bellissimi Che non ha parole Poi azzurro Voto 10 È bellissimo Questo lo utilizzeremo Per appunto i nostri viaggi In cui non possiamo portare Praticamente niente E hanno dentro Il cleanser Il toner La lozione Poi passando alla categoria Creme Abbiamo questa Nourish cream Poi loro mettono sempre Questi applicatori Per evitare di sporcarsi Le mani Le unghie Carinissima Oddio buonissima Sì proprio D'estate questa crema Poi ovviamente Sul sito di Stylevana Trovate Guardando i nomi Dei prodotti Che vi lasciamo Qui sotto in info box Le caratteristiche Di tutti i prodotti E modo per applicarla Se di giorno O di sera Infine il prodotto Più grande di tutti È questo Pieno di pad E sono dei toner pad Quindi sono imbevuti Di tonico Qua tra l'altro C'è la loro pincezza Sono proprio estetiche Da mettere nella propria postazione Fanno un figuro Io vorrei andare in Corea Solo per andare a fare Il rifornimento Di skin care coreana Per sempre Ma c'è stelle vanabri Non serve nemmeno andare in Corea E poi ci hanno inviato Questo Age Air Booster Pro Che è un dispositivo High tech Per la cura della pelle A livelli professionali Ci sono tantissime Modalità Sono quattro Per la cura dei pori La cura della pelle grassa Sì noi siamo un po' Fissate su questa cosa Ma quindi questo Ci aiuterà tantissimo Un puzzle da mille pezzi E gentilmente inviato Da Cranio Creations Cauri dovremmo assolutamente Realizzare insieme Finita la tua sessione All'atto Questo penso che sia Il layout del puzzle E fare puzzle ragazzi È super rilassante Onestamente non mi sono mai Messa in una challenge Di fare un puzzle Da mille pezzi Perché ragazzi Massimo che siamo arrivati noi Era un puzzle da 500 Con la faccia di un cavallo Ah davvero abbiamo fatto quello Sì Io non me lo ricordo Io mi ricordavo il puzzle Delle Winx Cioè double 50 pezzi Sì Sono sempre molto divertenti Ma in Italia tra l'altro Sono anche stimolanti Perché dovrebbero stimolare La tua parte un po' Più razionale Il ragionamento logico Ecco perché non li facevo Perché non c'è questa parte È bella Abbiamo un kit Gentilmente inviato Da Van Nelle Con all'interno Tutti i kit Di ciunghe Mi chiamiamo ciunghe raga Però vabbè Di chewing game Mi era stato infatti inviato Proprio per la maturità Ma adesso anche per la sessione Dell'Auri Proprio perché secondo un metodo scientifico Masticare la ciunga Permette di stimolare La memoria Il ricordo Diminuire lo stress L'ansia Poi tanto ci sono tantissimi gusti Molti di qua non avevo mai visto Noi eravamo rimaste Alle classicissime Daygum Però ce ne sono Di tantissimi gusti Ma queste devono essere Veramente Anche queste Esami no panic Proprio Aggiornamenti per LOL Abbiamo raccimolato Nelle altre cosine E quindi eccoci qua Per un Sesso haul Parte 2 In primis abbiamo Il nuovo contorno occhi Di IMM Voi lo sapete È una marca Che io personalmente Adoro di skin care Di cui ho tanti altri prodotti Questo qui è La crema contorno occhi Anti aging Come svegliarsi fuori Alla mattina Quando siete stanchissimi Avete dormito 4 ore Ma dovete andare a lavorare A scuola In più come sapete I pack di IMM Sono tutti Sono super Aspettiche In più Essendo anti aging Cioè ragazzi Meglio prevenire Che curare Permette di ridurre Tutti i segni Dell'età visibili E poi ragazzi Finalmente Finalmente Noi ne stavamo Aspettando Le pellicole Feel like paper Per i nostri Due nuovi bambini Vero ipad Di paper like Noi ce l'avevamo già Per gli ipad Tra virgolette Vecchi E ragazzi Quando abbiamo cambiato ipad E abbiamo nuovi Ipad air 2024 Sono arrivate ragazzi E scrivere con la pennina Su un ipad Che ha La sensazione Carte No è qualcosa Di indescrivibile Ve lo assicuro Sembrava una cavolata Ma non è assolutamente Così La mano Si incastra In più La pellicola È opaca Quindi anche il riflesso Della luce Magari se siete Sulla scrivania È molto meno Diciamo diretto E tra l'altro Noi ci stiamo trovando Veramente benissimo Sui nostri ipad Io non vedo l'ora Di iniziare L'università Con l'ipad air Da 13 pollici Anche mi sto trovando Adivinamente Cioè sono due strumenti Che oramai Sono i nostri migliori amici Per lo studio Quindi se anche voi Li avete Ma stavate aspettando La pellicola Feel like paper È arrivata Ci sono anche Per tantissimi altri Modelli di ipad È un investimento E ragazzi Nuovo arrivo Sono obsessed Mannaggia C'erano gli sconti Alla coppa Alla cona Non lo so In un posto dove dici Mi hai chiesto alcun sconto E invece sì È più inguardabili Ma ho felicità Dice felici tutti Io le avevo chieste beige Ma si sono rifiutate Di prendermele marroncino beige Me le hanno prese Blu comunque Bellissimo Davvero Sono il modello Arizona Quello che ormai abbiamo visto E stravisto Ce l'ho nere E adesso ce l'ho anche blu Giusto per variare un po' E speriamo di bloccarci Questi due colori Solamente perché erano il sconto Perché altrimenti sapete Che comunque queste ciabattine Costano più di 80 euro E invece erano il sconto Del 30% Costavano tipo 60 65 Cioè comunque è assurdo lo stesso È assurdo lo stesso Però di solito Le beer che sto con me Non hanno mai sconto Quindi io ero veramente Oh my god I'm shocked Il video termina qui Speriamo tanto che vi sia piaciuto Fateci sapere qual è stato Il vostro articolo preferito Sono cose proprio estive Che ci piacciono Che non vediamo l'ora di utilizzare Noi vi diamo appuntamento Con il prossimo video E lo salutiamo 5 persone Che hanno uscito dal video precedente Iniziamo da Bianca Un bacione Kira Un bacione anche a te Stefania Un bacione Maria Rosaria Un bacione anche a te E per ultima Un'altra Bianca Un bacione Ci vediamo con il prossimo video Ciao Ciao